che figa che è ragazzi e il beccolo di iene che comincia a studiare la paella se la fa o se la fa? una mezza che non basta vai sicuro che sei più figo vai vai ma è troppo un mito no stai malissimo che cos'è quello? quello è il drago continuo a filmare continuo a filmare ready for the dragon sorry ciao 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 Grazie a tutti.